Nonostante le restrizioni e le difficoltà del momento legate alla Covid-19 e quindi all'emergenza sanitaria, il comune cilentano di Laurino tira il segno più per quanto riguarda le presenze turistiche sul territorio. Devo dire che abbiamo avuto tantissime persone che sono venute nel nostro paese. Abbiamo tra l'altro fatto anche una edizione ridotta del nostro Festival Jazz con un concerto di Tosca bellissimo, ovviamente utilizzando tutte le precauzioni e tutte le misure anti-Covid e devo dire che è stato anche un risultato eccezionale. Come pure il 12 agosto abbiamo fatto un evento aprendo tutti i cortili dei Palazzi Gentilizi che ha avuto un risalto bellissimo e tutte le persone che sono state i nostri ospiti hanno davvero apprezzato e ci hanno incoraggiato per proseguire in questa direzione.